Un nuovo avviso di maltempo per la provincia di Sondrio. Per il lancio è, come pratica, la sala di protezione civile della regione Lombarda. La fase pericolo inizia con mezzanotte venerdì 22 settembre e si applica alla zona Valchiavenna e alla Valtellina dei Media. I maggiori rischi sono quelli idrogeologici, oltre a quelli causati direttamente dal disturbo. Specialmente nella Valle Mera, per il giorno di venerdì 22 settembre. Sono previste condizioni notevolmente disturbate. Con intense piogge della notte sparse a diffuse. Alpina, prealpina e alta settori PRAVI settori occidentali di Alpi-Prealp. Quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centrale orientale di Alpi e Prealp parte. Della pianura. Dalla tendenza al sedile della Medio Pomeriggio all'attenzione. Le precipitazioni saranno anche della natura inversa e temporale. Erano previsti venti principalmente dei quadranti orientali e meridionali nella semplice debole. Nel giorno in cui la tendenza a preoccuparsi.